Il frullato di barbabietola per migliorare la salute cerebrale Frullato di barbabietola per migliorare la salute cerebrale . In più occasioni vi abbiamo parlato dei grandi benefici che derivano dal consumo di frullati naturali, quelli che si preparano in casa con il frullatore e che non contengono nessuna sostanza chimica o conservanti. . Uno dei rimedi naturali che bisognerebbe sicuramente tenere in considerazione è, senza dubbio, bere frullato di barbabietola. Questa bevanda migliora i processi cardiaci e, inoltre, favorisce la buona salute cerebrale. . Vi invitiamo a includere il frullato di barbabietola nelle vostre colazioni o cene. Scoprite tutto quello che c'è da sapere su questo meraviglioso rimedio naturale. Frullato di barbabietola, un grande alleato per il nostro cervello. . Secondo lo studio pubblicato sulla rivista Biologhi e Inchemistri, condotto dai ricercatori dell'Università di Oxford, Regno Unito, bere in modo regolare il frullato di barbabietola ha effetti positivi sulla nostra salute e ci protegge da malattie come l'Alzheimer. Vediamo ora gli aspetti più interessanti. . . La barbabietola è ricca di antiossidanti e di monossido di azoto. . I benefici del frullato di barbabietola per la salute del cervello dipendono, principalmente, dall'elevato livello di antiossidanti, vitamina C e, soprattutto, monossido di azoto o ossido nitrico. Se non avete mai sentito parlare di questo composto, vi spieghiamo come agire. . 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 Un altro aspetto importante è che l'ossido nitrico rafforza e migliora la resistenza anche del cervello. Anche se l'energia che apporta si esaurisce nell'arco di due o tre ore, la combinazione con gli antiossidanti fa durare l'effetto più a lungo. L'ossido nitrico rilassa i vasi sanguigni del cervello. Il nostro organismo è questo permette di ridurre l'ipertensione e di migliorare la salute cardiaca e cerebrale. Il nitrato inorganico presente nella barbabietola consente di regolare la pressione arteriosa, così come altri ortaggi a foglia verde come, ad esempio, gli spinaci. La barbabietola consente di ridurre le infiammazioni. Il frullato di barbabietola e l'alto contenuto di antiossidanti consentono di combattere l'infiammazione dei tessuti e di proteggerli non solo dall'attacco dei radicali liberi, ma anche dall'accumulo di grasso. La barbabietola, inoltre, riduce l'effetto nocivo che determinate sostanze chimiche hanno sul DNA e che possono favorire la comparsa di tumori. I migliori frullati di barbabietola per cominciare la giornata. Frullato di barbabietola, carota e mela. Ingredienti. 1 barbabietola 1 mela verde 1 carota 1 bicchiere di acqua, 200 ml. Preparazione. È molto semplice da preparare. Per godervi questo delizioso frullato, dovrete solo mettere nel frullatore una barbabietola già cotta, una mela verde tagliata a pezzetti, una carota e un bicchiere di acqua. Frullate per qualche minuto fino ad ottenere una bevanda omogenea e bevetela a colazione. È un rimedio medicinale che migliorerà la vostra salute. Vale la pena provarlo. Frullato di barbabietola e limone. Ingredienti. 1 barbabietola Il succo di 1 limone 1 bicchiere di acqua, 200 ml. Preparazione. Questo frullato naturale è indicato per depurare l'organismo, per migliorare la salute del fegato e per rafforzare le difese immunitari dell'organismo. Per prepararlo, è sufficiente spremere il limone per ottenerne il succo e metterlo nel frullatore insieme al bicchiere di acqua e alla barbabietola tagliata a pezzetti. Frullate fino a che il composto non avrà raggiunto una consistenza omogenea e una bellissima tonalità cremisi. Che da dire che la barbabietola è uno dei tuberi che contiene più zucchero, di conseguenza, in caso di diabete, è meglio consultare il medico o nutrizionista prima di procedere con questo rimedio. Grazie.